Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Gamba! Qui, gambo! E qual è questa cosa? Ce l'avevi? L'hai appena fatta! Vito! No, no, no! No, col culo! E poi fai giù con le gambe! Vai, bravo! Oh, sentivo che fa le mole, Sio! Vai te, vai te, vai te! Vai, fateci vedere, fateci vedere! Io? Sì, sì, prima di due! Eh, sono io via! È così semplice, certe volte, guarda! Eh, basta fossa! Beh, la roba più fatica è la testa, lo shaking! Lo shaking! Non si può esercitare che... No, non sono io, c'è ragione Alexi! Diglielo che non sono io per provare! È vero, è vero, è vero! Fai cadami! Ma guarda come sei coccolato! Delizioso! Sì, sono io! No, no, meno male! Ma perché ci vanno tutti con me? Ma vuoi fare figli? No! No! Perché? Fammelo vedere, però non ci soglia molto! Anna Popi questa è! Non è Anna Popi! Aspetta di te! Tesoro, ma chi te l'ha fatto? Va bene! Aspetta, tira sotto il polpaggio! Certo, è passato a dirvelo! Aspetta! Ah, guarda come tu hai fatto! Amore! Ma io spero che non... Spero che tu non l'abbia pagato! No! Hai fatto la storia! Ah, ok! Devi dire, dai dai! Compra la mozzarella da Luigi, non te ne pentirai! È fortissimo Luigi! È fortissimo Luigi! È fortissimo Luigi! C'è la Luigi! Cosa mozzarella da Luigi? Ehm... Si è bloccata la live! Insomma... Si è bloccata la live? Quindi io sto vogliono a parlare da sola? No, 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 no! Ah, ok! Ehm... Ehm... Non lo so! Fabrizio! Sì! 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 No, male! Ti ho un po' bloccato! Ehm... Facciamo un'altra! Ehm... C'ho un problema di quell'articolare! Amore, vieni qua! Amore! Allora! Facile! Ti mesci qua! E sì! Ti attacchi a me! Ma non è facile! Come no? Fai così! Siedi! Certo! Capito! Capito! Vieni! 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 Tircolo! Vieni! Tircolo! Tircolo! Vai! Tircolo! Bravissimo! Più giù! Più giù! Vai! Tircolo! 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 Vai! 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 Ah! Vieni! Ho fatto un casino. Levo ho levato a fondo. e si toglilo, toglilo, no ma questa è la cosa, toglilo, stai con ce n'è il totti, brava, al primo corpo, pisellone, è lei no, ah pisellaccio, bella, 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 lei bella, sì, 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 no, è una cosa perché io ti giuro, ho un commento su ne che, mio fratello sei cazzo, guarda come giro, guarda porca troia, hai visto, Scusate, 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 fermi, ho sbagliato, ho sbagliato, ma che cazzo ti ha segniato la guida, oh, aiuto, è troppo di là, io c'ho la retromarcia, ragazzi mi hanno fatto un incidente bravo, vai, admittedzo, vai, indietro, vai, indietro, anzi, detto qua, vai, indietro, ancora, ancora, ancora si può mettere la musica? ci portiamo a petto nudo no, non si può no, io ho un bel fisico per forza devi mettere fake nude vero? capito? e dove siamo noi? fake body bro t'ha bullizzato e il mio concerto ma che cos'era? ma che cos'era? è la prima persona che ti ha visto cosa hai visto? ma che cos'era? ma che cos'era? è il suo paletto iconico porca troi porca troi lo sapevo si ma cosa ti stai rifando? hai più dalle un chat? si hai l'altro ehm allora grazie no, io no amore che culo posso dire anche si si che culo e lui è una buono star no, ho l'infanzo si e aspetta chi ti ha chiamato? no raga, che vergogna chi ti ha chiamato? aspetta, è la mia persona che lavora a fare più di stessa e sei risultato? collega della scelta casa aspetta 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 mia collega dicendo ehm ma che per va bene ok metti la canzone oh andiamo cavallo con Harry Potter vai e va bene metti la dopo eh si che bailando malino e questo e tra di chi è la canzone? ehh G Balvin fa la cantare a lui no? lo conosci? ma scherzava lo conosci? eh bocchino Francesco vai metti valla ci facciamo i soldi chi lo capisca e ti giro e ti giro ragazzi l'obiettivo è quello di far toccare la lettera ovviamente io non ho finito l'obiettivo è quello di far toccare la lettera ricordiamolo come è Giard? oggi mi chiamo Camera come è andata Giard? eh posso dire? ah devi mettere fake nude vero? no allora guarda se lo si dico capito 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 come è ripresa dalla mamma ho utilizzato cosa come si chiama? Eleonora Eleonora si vergogna non si torna a casa non si torna a lei che dici mi fa c'era chat spam di APA per favore spam di APA per favore in chat spam di APA guarda c'è Peppo Peppo 1304 sul pezzo posso dire APA vediamo chi si va più a il retoma 17 Christophan Malavau Nick Palladino Nick Pompino? si poi mezzo camion non è che sia molto Nick Palladino di nuovo?